Continua il botta e risposta sulla pelle dei lavoratori dell'Acqua Santa Croce. In questo caso interviene il legale Colella che parla di un omesso versamento IVA come scelta obbligata in vista di una situazione debitoria ereditata da una precedente gestione. E' così che si parla anche di un appello e di un'altra causa dunque che peserà sulla situazione già precaria dei lavoratori dello stabilimento Santa Croce. In una nota l'avvocato Roberto Fasciani, legale del patron di Santa Croce SPA Camillo Colella, sulla condanna dell'assistito da parte del Tribunale di Avezzano per omesso versamento dell'IVA relativa al 2008 per circa 3 milioni di euro si esprime dicendo che l'omesso versamento attiene a un anno nel quale l'imprenditore Colella ha rilevato la sorgente Santa Croce SPA dalla precedente proprietà, ereditando così un debito incolmabile nel breve termine. La scelta era obbligata a non pagare interamente l'IVA del 2008 alla scadenza per pagare invece i lavoratori e i fornitori al fine di consentire all'azienda di proseguire nell'attività ratezzando in seguito il debito tributario con l'agente di discussione. Ratezzazioni in corso e regolarmente onorate. La sentenza di primo grado, non ancora definitiva, si legge in una nota dell'avvocato del patron della Santa Croce, si palesa ingiusta in quanto gli enormi debiti ereditati e la grave carenza di liquidità dovuta in gran parte ai fatti imprevedibili, tra cui la crisi economica del settore, sono state condizioni oggettive che hanno impedito il pagamento dell'immediata imposta. Mentre l'imprenditore di Santa Croce sta valutando comunque il pagamento integrale estintivo del debito tributario residuo, intanto la sentenza sarà certamente appellata chiedendo alla Corte d'Appello d'Abruzzo di riformare la sentenza stessa. Si chiama Caffè, il cane migliore d'Abruzzo nello scovare la droga. Al fianco del suo compagno umano, William Capetola, nel solo 2016 ha rese possibili due denunce a piede libero e 14 segnalazioni per spaccio ed uso di sostanze stupefacenti. Il binomio si è confrontato con altre 10 coppie dell'unità cinofila abruzzese nell'ambito della dimostrazione dell'attività antidroga con i cani. Per simulare la droga è stata utilizzata una sostanza di sintesi creata in laboratorio, avente tutte le caratteristiche olfattive degli stupefacenti più comuni ma priva dei principi attivi delle droghe. Il cane, in un contesto di svariati figuranti, doveva scovare e segnalare il solo individuo a possedere la partita di droga, mettendosi nella posizione del seduto. Per questi militari a quattro zampe l'addestramento rappresenta un gioco e non un lavoro. Un'occasione per dare sfogo agli innati istinti naturali, predatori e di caccia, utilizzando gli sviluppatissimi sensi della vista e dell'olfatto. Abbiamo cani specializzati in molti settori operativi, proprio di recente sono stati impiegati anche ad Amatrice per la ricerca di persone scomparse sotto la macerie. Abbiamo cani addestrati alla ricerca di banconote presso l'aeroporto di Pescara. Oggi invece mettiamo in esercitazione i cani che ci aiutano a scoprire la droga. Sono sparsi in tutto il territorio, periodicamente li riuniamo e oggi attraverso delle esercitazioni combinate e predisposte con un apposito percorso mettiamo in una sorta di benevola competizione tutti i vari conduttori, tutte le coppie, uomini, militari e i nostri amici a quattro zampe. Grazie a tutti.